Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo vlog questo è il secondo video che faccio del mio canale e in questo video vi parlerò di una serie Barbie Adventure che la registrerò io allora mi vedete un attimo col fiatone perchè questo è il mio caraggio e sta proprio su su dalla mia casa la mia casa sta là dunque ho corso tutto questo per venire qui sopra nel mio caraggio dove sto registrando questo vlog allora questa serie Barbie Adventure saranno non sarà sarà una serie del primo episodio, secondo episodio vi faccio un esempio il primo episodio può essere della serie vi faccio un esempio ora la casa, la casa nuova il secondo episodio può essere il tradimento eccetera, questo è qui allora sarà la prima parte che uscirà oggi o domani o dopo domani non so proprio perchè mi ci vuole un po' di tempo per caricarsi ci vuole un po' di tempo per caricarsi io lo metto a caricare e quando è carico mi viene il messaggio sul telefono che il video è stato caricato su YouTube e allora la prima parte vi farò vedere quando vedrete Barbie Adventure prima parte parte 1 signora prima parte vuole dire vuole dire che io in questo in quel video parte 1 significa che vi farò vedere la casa le Barbie e con quale farò questi episodi e poi sarà subito episodio 1 che registrerò il primo episodio ci metterò un titolo e dopo quel titolo dovrò fare l'episodio io con le mie Barbie questo vlog è finito vi volevo solo dire di questa serie Barbie Adventure lasciate un mi piace scrivetemi un commento di carino io sono stata Elena Kauwei e vi volevo dire un'altra cosa che mi sono scusata a dirlo prima nel mio primo video del mio canale ho detto che per inizio voglio 10 mi piace però ne ho avuto solo 2 dunque io che dicevo voglio 10 mi piace e 2 iscritti ho un iscritto e 2 mi piace dunque per questo video vorrei un mi piace per inizio io sono stata Elena Kauwei noi ci vediamo nel prossimo vlog video challenge o qualcosa divertente spero che questa volta vi sono sono riuscita a stopparvi un sorriso io sono stata Elena bella raga grazie a tutti grazie a tutti